Il porto turistico marina di Cala del Sole di Riccata ospiterà sabato prossimo 29 giugno la tappa finale di Boating Event in Sicily. La manifestazione promossa all'assessorato alle attività produttive della regione siciliana è una missione di incoming sul territorio siciliano finalizzata a favorire la promozione internazionale del comparto nautico turistico. Boating Event in Sicily rappresenta l'epilogo di un processo di internazionalizzazione delle imprese siciliane che si è concretizzato con la partecipazione in diverse manifestazioni fieristiche internazionali del settore. Il Salone Nautico di Barcellona, quello di Genova, di Dusseldorf e il Croazia Boccio di Spalato. Saranno presenti le eccellenze territoriali del settore nautico, barche a motore, barche a vela, gommoni, mini-dissalatori, pontili, porticcioli turistici, mondo diving. Accanto agli incontri business e ai workshop dedicati agli addetti al settore, gli appassionati del mondo nautico potranno godere di momenti di intrattenimento, di degustazione, di pesce azzurro e spettacoli musicali di artisti siciliani. In particolare si svolgerà una regata velica, long distance, flyboard show, spettacolo musicale con il trio Sicily Star con Francesco Buzurro alla chitarra, Francesco Cafiso al sax, Giuseppe Milici all'armonica.